buongiorno da Gianluca e da mbstore.com volevo ringraziarvi per tutti i commenti i post su facebook e le email di ringraziamento che ogni giorno ci arrivano per i video che vedete postati su youtube sono un piccolo contributo un piccolo aiuto che io cerco di darvi sempre ricordandovi che è sempre bene chiamare un installatore nel caso in cui abbiate problemi nel caso in cui abbiate qualche richiesta o qualche esigenza particolare potete scrivere alla nostra casella di posta elettronica info chiocciola mbstore.com lasciare un commento sotto un video youtube o scriverci sulla nostra pagina facebook un saluto da Gianluca e da tutto lo staff di mbstore Grazie a tutti